noi siamo live eccoci eccoci buonasera a tutti stasera abbiamo con noi rosanna brambilla benvenuta rosanna e rosanna architetto o architetta io inizierei da questo allora sì mi sono sempre fatta chiamare architetto non architetta anche per via della tetta dico la verità che al plurale suonava veramente insomma così e al singolare pure peggio quindi architetto non facciamoci sentire la vera che non so se non lo so lo so che ho seguito la chat su questa cosa però qui è proprio una questione puramente di suono non lo so ed io infatti della presentazione dell'evento online ho seguito ho visto sicuramente la tua biografia è segnato ho portato per la forma quella tradizionale poi se vuoi aggiungiamo anche direttore o direttora che non ti dico direttora mi faceva subito badessa direttrice direttrice istituto istituto di orsoline e ok ok non proseguiamo su questa strada rosanna quindi architetto anche giorno ovviamente giornalista e anche pittrice possiamo dirlo no sì possiamo dirlo ok è stata l'oltre direttore appunto di molti periodici di successo di livello nazionale come cose di casa casa in fiore brava casa io ho studiato un pochettino la biografia si vede ed è anche dietrice di parlami di case percorriere.it consulente e design manager di brandi di design di design italiano appunto ed è anche la creatrice di un web radio nonché podcast radio ros che si occupa di argomenti di varia umanità io ho avuto anche l'onore di essere intervistato quindi eravamo a parti invertite e propone anche una selezione musicale di alto profilo devo dire e poi rosanna è anche un'anima animalista questo magari ci direi tu qualcosa sì sì su questo posso intrattenere preoccupantemente e non aprite quella porta infatti infatti il argomento che so che è un tema che ti sta molto a cuore che ci vorrebbe via insomma se vuoi dirci qualcosa di sicuro ecco dopo dirò che non c'entra niente con il tipo di attivismo della mia omonima siamo molto diciamo agli estremi quindi c'è un omonima che è molto nota per questo suo impegno di cui gli va dato sicuramente merito però abbiamo diciamo un'impostazione una visione decisamente diversa io ero vinto che la più nota fossi tu almeno no no c'è sempre stato un problema di capelli il rosso il rosso acchiappa di più diciamo sono gusti comunque e di cosa di cosa parliamo stasera di design perché disani continua a essere centrale in tutto quello che in qualsiasi gesto se vogliamo della dell'uomo della persona e per l'Italia poi ha costituito l'Italia ha costituito una delle massime espressioni del nostro genio nazionale tra alterne vicende Rosanna ha avuto insomma ha avuto una carriera ricchissima e l'ha conosciuto da vicino il mondo del design milanese l'esempio dell'architettura milanese un design appunto e quindi potrà anche un po raccontarci qual è stata la sua esperienza di quel mondo che cosa dobbiamo salvare che cosa non dobbiamo salvare allora grazie Roberto e io dico sempre appunto che siamo nelle nostre esperienze professionali siamo veramente un po il risultato di quello che la nostra curiosità ci ha portato a essere un po al di là degli obiettivi che ci siamo proposti per cui io a volte ho fatto delle cose per differenza o per non farne altre no per cui ho fatto architettura per non fare accademia di belle arti perché era troppo era considerata allora dimensione troppo creativa per un fatto che aveva a che fare con l'industria con l'impresa col design e con l'arredamento eccetera però poi dopo ho fatto architettura a roma e quindi a valle giulia e quindi in una dimensione che era tutto meno che tranquillizzante perché l'ho fatto poi in quegli anni lì per cui io dimostravo dovevo dimostrare costantemente che era un ambiente tranquillissimo bucolico eccetera eccetera e in quella dimensione naturalmente mi era preso poi l'attacco della scenografia perché la dimensione di roma portava anche a vedere gli spazi in una dimensione spettacolare no per cui ho avuto la fortuna di vivere e ho avuto il professore ideale che era nicolini per cui io ho avuto il privilegio di avere un assessore che ispirava le nostre lezioni e mi ha fatto molto male da questo punto di vista e nicolini come docente sì sì e con mario fiorentino era uno per cui ho avuto anche mario fiorentino come professore e ahimè non ho potuto fare la tesi con lui perché appunto è mancato proprio infatti un pochino gli ho mandato gli accidenti proprio il mese della mia tesi per cui ho dovuto cambiare con un altro relatore ma comunque insomma c'era nicolini c'era cappelli giuseppe cappelli c'è insomma c'era tutta la squadra che poi condivideva con milano la grande ricerca di monistiroli ma infatti su questo posso interromperti di nicolini che ricordo hai perché sai immagino che per chi magari è un po' lontano dall'ambiente romano forse la figura così oggi conosciuta ma a roma è struttura un mito no è l'inventore dell'estate romana e nicolini è stato veramente una interprete di come potrebbe essere stata l'architettura se se avessero intuito che non era solo un genialoide ma era un uomo politico e quindi era veramente oggi lo chiameremo intrusi e cioè inclusivo lo chiameremmo insomma nicolini riusciva a essere molto pop e anche molto molto chiaro molto lucido adesso non tiro in ballo quando faceva lezioni ma insomma insomma era un personaggio che sapeva introdurti con quella grazia e quella gentilezza che è di pochissimi e non era solo affabulatore no era proprio era proprio così lui e tra i quattro assistenti devo dire che abbiamo avuto con mario fiorentino che anche lui è stato un personaggio perché in qualche misura ha consentito a nicolini di esprimersi nonostante le due figure erano abbastanza ingombranti entrambe no sulla scena dell'architettura di quegli anni romani e nicolini aveva una marcia decisamente in più su tutto perché sapeva comunicare era un grande comunicatore non solamente agli studenti che potevano avere un rimbambimento da studente coi professori ma in quei momenti la grande esperienza dell'estate romana che non era l'estate del cazzeggio oppure era proprio un palinsesto di eventi culturali inanellati pensati poi sì c'era certo fare un po di serate lunghe e farsi le scopacciate di cinema eccetera eccetera però è stato quello e quindi diciamo che quando è mancato tra l'altro piccola notizia carina così a proposito della pittura l'anno scorso prima della pandemia mi sarebbe proprio capitato di fare una mostra nello studio di nicolini che per me sarebbe stata una cosa quasi commovente perché l'idea di poter esporre nella nello studio del mio maestro insomma di uno dei miei maestri mi avrebbe fatto veramente tanto piacere quindi un altro danno del altro guasto di un altro guasto della sì di questa dimensione diciamo che dobbiamo comunque affrontare lucidamente poi vabbè che devo dire invece di questo fondeggiare tra è sempre stato infatti parte dalla tesi ho fatto questa disgressione che la mia tesi era sul rapporto tra l'architettura milanesa e quella romana di un certo periodo particolare e la mia vita è stata tutta un po messa così no per cui l'impresa l'industria la famiglia che aveva quella origine quindi un padre che importava il mobile nordico piuttosto che gareggiava con la De Padova chi aveva una visione appunto più divulgativa più alla Bauhaus e chi più elitaria quindi erano periodi nei quali io vivevo un po questa cosa poi la 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 cosa romana come che a un certo punto mi è stato detto beh vabbè finito e quindi il finito voleva dire che rientravo però alla Rizzoli in un momento particolarissimo che era quello della amministrazione controllata c'era Tassandim c'era tutto un periodino non facilissimo e io ricordo in cui lo posso dire con tranquillità io ho avuto una raccomandazione solo nella vita quella devo ad Antonello Mosca che è un altro architetto che era direttore di Casa Amica che aveva bisogno come si direbbe adesso di uno schiavo e allora io feci lo schiavo e entrai all'RCS per fare proprio un progetto preciso il maschile anche anche lo schiavo lo schiavo si no la schiavo mi farà una cura sulla chat terribile lo so me lo sento è un po' a ragione il maschile a meno sottintesi ecco e quindi esatto quelli eh io alcuni ecco avevano chiamato me il delfino pure peggio perché sempre maschile ma il delfino e in realtà ero veramente una vittima di due direttori poi quindi mi ricordo questa vita tra i corridoi io andavo da Casa Amica Amica dove c'era Pietroni all'altra parte Brava Casa Giagnoni che era considerata una testata dove io poi mi tornerò da direttore anni dopo ehm più eh commerciale quindi che non aveva l'allure che potevano avere interni abitare allora ma che per esempio lì ho conosciuto però l'industria eh metteva anche il mobile pesarese allora per entrare nel mondo del design regionale eh possiamo dire che l'Italia non è stata mai molto coesa da questo punto di vista perché c'era l'abrianza sappiamo tutti che l'abrianza voleva dire quel grande mondo eh come poi scherzeremo sul tema del Santo Olivetti si può scherzare anche sul tema del Santo Piero Busnelli b e b e a pioggia diciamo ci sono tutte le figure che hanno fatto eh assolutamente a ragione la storia di quel comparto di quel territorio no? Per cui lì ho avuto la fortuna di conoscerli tutti e di frequentarli qui altro grosso tema che poi entrerà nel nostro discorso alle fiere che avevano un ruolo importantissimo eh fiere che oggi vediamo veramente in difficoltà martoriate ma possiamo dirlo erano già in trasformazione erano già un luogo da ripensare e quindi questa pandemia credo che dà solamente un po' un altro contraccolpo a un sistema di comunicazione del prodotto che vedeva già qualche segnale di di fragilità ehm e a quell'epoca però le fiere erano il luogo dove veramente si sviluppava l'internazionale e l'internazionalità delle aziende che avevano modo di testare immediatamente l'appeal della loro produzione e poi c'era una dimensione umana naturalmente molto divertente che qui posso raccontare di quando Mario Marenco andava recuperato perché a torso quasi nudo andava a Colonia dopo la fiera a prendersi la birra con la cosa veniva trascinato perché sennò poi moriva di congestione e un giorno dopo per i corridoi della fiera di Colonia non si sarebbe potuto sghignazzare per i versi che lui andava a fare in tutti gli stand i tedeschi e francesi spiazzandoli moltissimo che poi dopo diceva che era il designer di Artflex quindi loro si immaginavano un architetto assolutamente serio e poi si ritrovavano ecco ecco un contesto quasi familiare no quasi di questo di questo oggi cosa cosa è rimasto allora cosa si sa ecco cosa si sa io dico che per certi aspetti si sa poco di quello che è veramente senza retorica la chiave del successo condiviso anche in parte da un grande pubblico questo non ce lo dobbiamo scordare perché mentre i grossi brand della moda sono diventati popolari in qualche modo ma per altre dinamiche se noi immaginiamo e diciamo un nome P.E.B. non sarà mai come un nome modaiolo molto noto così la pola così di questo mondo no però nella nicchia erano riusciti loro essere promotori di un mondo molto significativo anche dal punto di vista cito sempre aspetti no c'è stato un momento in cui le coppie le giovani coppie aspiravano ad avere un certo tipo di letto perché la faceva la flu e perché era il letto e un tito e qui era un momento coesione tra quello che il prodotto e quello che voleva e questo si sentiva poi a livello di numeri mi raccontano che ci sono stati momenti in cui la distribuzione non faceva neanche a tempo a rispondere agli ordini e in tanti negozi showroom si chiamavano così sale esposizioni diventate poi showroom non si riusciva letteralmente a stare al passo di questi ordini che hanno in qualche modo determinato l'ondata importante dell'arredamento del design fino a un certo momento e c'era una grande armonia e sinergia tra i produttisti che non erano tantissimi che erano un numero abbastanza che vivevano l'azienda a volte si fondevano con l'azienda ricordiamo Luca Meda per Molteni piuttosto che più giovane Rodolfo Dordoni per molte aziende quasi tutti quelli che riuscivano avere questa dimensione un po' mecenate e l'artista avevano un po' questa questa dinamica c'erano gli innamoramenti ovvio ovvio a proposito di mecenate guarda vorrei portarti un po' sulla quella considerazione politica politicamente scorretta di poc'anzi a proposito dei santini dei panteoni e di Olivetti io guarda proprio ieri leggevo un libro di Rampini in cui lui poi semplicemente uno dei tanti appunto faceva questa sorta di sono apoteosi di apoteosi di Olivetti come imprenditore illuminata come colui che riusciva a coniugare il profitto e l'etica ora naturalmente io non voglio sminuire però nello stesso tempo l'atteggiamento magari di chi vuole popolare questi panteoni panteoni australi di personaggi che magari specchiati sicuramente però nello stesso tempo poi strumentalizzati nel momento in cui uno vuole metterli lì appunto come i santini, come i numi tutelari e lo si è fatto di recente anche per tantissimi da Marchionne a tanti altri di Olivetti e dell'olivettismo ecco io guarda proprio per non entrare nella Olivetti non lo metto in discussione mentre l'olivettismo tantissimo perché è diventato un freno pazzesco a qualsiasi forma di non solo di rappresentazione del valore valoriale del lavoro svolto da tanti tanti altri soggetti del panorama italiano e non ma perché è diventato anche molto l'alibi per continuare a procedere non in termini di arricchimento ma in termini di confronto allora anche qui il confronto è molto utile però c'è un momento nel quale secondo me sia gli imprenditori non devono proprio confrontarsi con nessuno ma devono immaginare, devono crescere devono sperimentare a me quello che per esempio mi ha colpito è che noi abbiamo l'appassionamento anche per le figure individuali io ho la passione per la squadra io ho la passione per esempio per i team per le aggregazioni ho la passione per i tentativi e qui devo dire forse mi viene persino da mio padre questa roba che tentò una cosa che non funzionò per niente che era questo gruppo selezione si chiamava e doveva farsi tramite tra l'industria la distribuzione e i progettisti per fare da filtro acquisire informazioni acquisire dati per dare dati e informazioni per produrre soggetti oggetti che avessero di volta in volta una loro effettiva misurabilità della richiesta quindi era una cosa che si poteva fare fatta per due milioni ma addirittura vedeva un po' oltre immaginava la possibilità di un'internazionalizzazione di collezioni fatte ad hoc per cui si poteva davvero gestire anche i numeri dalle produzioni questo è il design management se vogliamo eh sì, questo sì, è proprio quello un po' quella cosa che è a metà appunto tra management, supply chain, gestione esattamente un visionario questa cosa però immaginata negli anni 70 era decisamente troppo presto probabilmente anche perché non dimentichiamo che noi continuiamo a pensare a Olivetti appunto a Pier Bosnelli tutti questi soggetti ma l'Italia era lenta in queste cose no? Allora un conto all'Italia raccontata come dico io anche dalla stampa di settore mi ci metto o un'area con la quale io proprio vado in conflitto e proprio stellare che è il racconto che ne fanno i televisioni media prima quando avevano un peso diciamo e descrivevano questo mondo sembrava che fosse fatto solo da oggetti strani da personaggi eccentrici e quindi ancora una volta invece di scegliere la strada di definire un comparto produttivo di grande valore fatto di esperienze collettive di processo che ricordiamo Olivetti ha avuto il suo peso ma ci sono stati tanti centri ricerche fatti in Italia che nascevano con uno intuitivo nell'azienda un capoprogetto un architetto che si fermava lì alla sera e trovava le soluzioni magari telefonando a quello che faceva il semilavorato piuttosto che e poi nascevano degli stampi ecco questa dimensione che secondo me andava un po' messa tra i zantini avrebbe bilanciato un po' l'appassionamento olivettesco e poi che è stato seguito da moltissime istituzioni o figure cioè non dimentichiamo che questo è un settore che ha avuto degli snodi cardine sempre del design domestico arredamento interior quindi facciamo la distensione non sono entrata nell'area di cui prima abbiamo parlato del design che ha sempre potuto avuto le opportunità di espressioni in altri ambiti invece un po' perché c'erano le cosiddette vacche grasse si è sempre impegnato solo su un fronte e non su quegli altri immaginiamo quanto poco rilievo è successo possono aver avuto i progetti per esempio di due grandi che erano Lucio Orlandini ma altri c'era stata una serie di progettisti che si sono occupati di disabilità e io mi ricordo che addirittura nei giornali che dirigevo quando io decidevo di fare un servizio su questi argomenti qualcuno diceva Brambilla no sta cosa non si può vedere le pagine abbassano un po' lo stile del giornale ecco l'Italia è stata anche questo una sorta di non occupante anche di qualcosa diverso che non sarebbe stato non avrebbe generato dei fantastici parti a Milano un po' la tendenza a restare sulle posizioni storiche se vogliamo sì io oserei dire quelle che al marketing del momento facevano anche più più comodo cioè non dimentichiamoci che questo è un sistema anche che ha dato e ha avuto molti risultati anche grazie a tutta una serie di figure che hanno che lo hanno rappresentato e che l'hanno fatto quindi parlo delle agenzie parlo delle agenzie formidabili che abbiamo avuto agenzie di pubblicità parlo delle istituzioni penso alle grandi mostre quelle svolte alla triennale penso ai luoghi ecco qui devo dirti oggi pensando a voi ho ho fatto così un un riavvio dei file e sono andata a vedere con un po' di rammarico a quanto potevano essere fondamentali i momenti di dibattito che si svolgevano in triennale e qui sì mi viene la nostalgia quella un po' vintage perché non era solamente party erano veramente momenti nei quali si rifletteva sul senso dell'operare in quest'ambito dell'essere design utili da riflettere sulle istanze che generano il senso di questa professione e lì si svolgevano queste cose oggi ultimamente molto prima del covid ti dico la verità ci sono stati momenti nei quali chi ha vissuto per esempio al salone del mobile ha avuto un senso di soffocamento abbiamo ci siamo abbiamo criticato per esempio anche la dimensione quantitativa che ha generato questa adesione a un momento totalmente esibitivo di questo settore che poi grande rabbia e qui devo dire un'altra cosa che non mi capacito ma io ho tentato di dirlo anche alle varie istituzioni che avrebbero avuto ragione di ascoltare un discorso del genere non hanno mai non sono mai riusciti a capitalizzare questi momenti importantissimi se uno lavora per sei mesi a un prodotto non può giocarsi tutto in una settimana perché fermami perché io in questo sono un fiume pieno su questo volevo cogliere l'occasione per aprire una piccola parentesi su questi grandi eventi quindi le vostre ad esempio di architettura in Italia o anche prendiamo ad esempio la Biennale di Venezia sì secondo te che ruolo può avere a me premono due cose una la costruzione di un dialogo tra l'Italia e il resto del mondo diciamo così esatto un posizionamento internazionale dell'Italia e l'altro invece una riflessione interna al nostro paese secondo te fondamentale sì è fondamentale è fondamentale è fondamentale ed è tutt'altro che superficiale cioè non c'è mai stato volta in cui io sono andata a una Biennale di architettura dove non abbia riportato delle considerazioni che in modo sintetico e anche sincronico con quello che stava pensando fossero state espresse per cui al di là delle critiche sulle direzioni che ogni volta c'è sto balletto eccetera ma già il fatto di riuscire a far convergere perché poi il valore viene fuori indipendentemente dalle direzioni per cui ricordo ancora adesso dei padiglioni che mi hanno fatto proprio pensare addirittura a una dimensione geopolitica che magari in quelle stesse condizioni l'architettura non avrebbe saputo esprimermi né attraverso oggi un sito né attraverso un talk o un convegno cioè hai proprio bisogno di vivere l'esperienza secondo me di questi momenti di confronto quindi secondo te sono momenti che non sono trasferibili a una dimensione puramente online no no e anche perché comunque questi sono allora a differenza di altri argomenti io ogni tanto quando seguo le vostre chat mi appassiona nello stesso tempo mi manca un pezzo un emisfero del cervello perché non riesco a starvi dietro però nello stesso tempo capisco che la dimensione nella quale vivono ogni tanto gli architetti una gabbia rimatti probabilmente beh a un certo punto non so allora provo a scrivere a qualcuno che mi sembra un po' matto ma non fino a quel punto dico non ho capito il passaggio perché è un linguaggio ormai che credo consolidato tra voi da iniziati esatto infatti ogni tanto vi ripulisco perché quando perdo e sembra di stare su una puntata di Netflix aver perso le prime parti e quindi così però in questo senso dicevo perché voi avete quel linguaggio che è bastevole per passare a un concetto io capisco che lì dietro quello scambio ci sono veramente dei pensieri che tornano eccetera mentre invece per parlare di città per parlare di loci per parlare di architettura e anche di oggetti io credo che l'uomo quindi mi metto al centro ha bisogno di quelle queste lì ci sono attenzione all'immagine tempi e lo dico e qui faccio un salto che può sembrare logico ma non lo so ieri parlavo con un architetto che si chiama Alejandro Restrepo che ha un bellissimo studio che si chiama ARP ARP adesso lo citerò male vabbè magari se mi sento ogni tanto faccio queste cose ma loro si occupano di allestimenti eventi ed è tornato mi diceva architettura di interni a un livello alto nel senso allora due aspetti io chiedo sempre questa cosa ma quando un committente privato ti chiede quello che vuole per il suo ambiente cosa ti chiede lì quello che temevo pensavo è sempre valso è diventa una specie di seduta analitica tra te e il committente poi c'è un passaggio una serie di cose e adesso c'è anche un gran casino che fanno gli spunti li prendono da Pinterest da Instagram quindi non si capisce più niente perché non c'è più una lettura anche si va da una forma di psicologia applicata alle paranoie del committente a una dimensione estetica formale stralciata senza disegno dai social per cui ecco qui le dimensioni immersive che ti possono dare eventi con installazioni piuttosto che con momenti dove l'architetto spiega il percorso la ricerca ma non lo fa come lo potremmo fare noi con una piattaforma secondo me creano quelle pause che al nostro cervello e alla nostra anima fanno bene quindi l'architetto non può fare a meno dello spazio no no secondo me no così come non può fare a meno del simbolo come non può fare a meno ieri mi sono messa a rileggere e poi uno dirà ma devi parlare di design e devi fare le chiese di pianta centrale e le ho un battista Alberti perché guarda che sto pensando a lui in questo momento e quindi sicuramente cioè dopo ti dico cosa volevo dire ok meno male dimmelo subito perché così almeno sappiamo se possiamo dirlo che io disegno i tarocchi per cui stiamo attenti perché Roberto si comincia anche a fare un po' di lettura del pensiero con Eutopian siamo messi veramente bene o male non saprei però Leon Battista Alberti davvero in quel suo modo di di rendere utile la geometria di rendere stabile il nostro pensiero senza togliere nulla spirituale ma aggiungere cose che non necessitano quel suo modo di codificare la raccomandazione che non diventa mai in posizione cioè tutto quel modo di procedere che sia teoretico che filosofico che pratico ecco questa è una cosa che secondo me manca oggi anche chi può approcciare questi discorsi con un sostegno a questo punto direi anche psichico perché stiamo sbarellando tutti le nostre professioni saldo solido infatti guarda lui secondo me è la figura emblematica per eccellenza del nostro molto più di altri che poi ovviamente sono magari più più noti più anche no ma lui è secondo me lui è uno dei 4-5 geni più grandi che l'Italia abbia mai avuto sì è attualissimo poi esatto esatto e poi pienamente come dicevi tu pienamente raggiunge un equilibrio perfetto tra le istanze spirituali è la saldezza no la solidità sì esatto e infatti a proposito di quello che dicevi dello spazio quando tu un libro lo chiami edificatoria stai dando proprio un fondamento materiale a una disciplina che non è quindi soltanto formalismo e non è neanche soltanto virtualità ma guarda l'altra cosa che ti dicevo è mancata adesso vado a cercare quel foglio che l'ho stampato l'altra cosa che è mancata in questi ultimi anni secondo me è questo questo rialzare un attimo lo sguardo da quello che potevano essere gli obiettivi che hanno sempre reso moltissimo per andare un attimo più in là allora non voglio dire che non c'è stata utopia perché c'è stata anche in questo settore l'utopia c'è stata però non è mai diventata pensiero almeno non è diventata pensiero al punto da ritornare a parlare di certi argomenti che riguardano ancora adesso l'uomo e che invece sono stati messi un po' da parte e sono stati messi da parte per aspetti formali per aspetti appunto di un marketing molto grintoso che funzionava molto bene a volte ormai da quel tempo non abbiamo più parlato di innovazione di prodotto per cui abbiamo lasciato che alcune istanze che erano quelle della grande serie fossero interessanti solo per certi gruppi e non per altri quindi questo è un altro grande limite perché io penso sempre alla scena mancata delle cosiddette piccole e medie industrie che strette tra una dimensione di concorrenza legata al fare fuori tutto e il prezzo che diventava un valore superiore si sono sbriciolate in una vuotezza anche che le generazioni successive anche volendo non avrebbero potuto colmare per cui ci troviamo queste situazioni di aziende passaggio generazionale formazione qui torno un po' al nostro discorso cardine formazione mancata perché non potevamo immaginare che non ci sarebbe stata la necessità di digitalizzare le aziende che non ci sarebbe stata la necessità di mandarli a studiare in contesti dove potevano vedere cosa sarebbe stata la Cina cosa sarebbe stata il mondo fuori dal piccolo successo italiano italiano questa cosa qui è una cosa di cui sono responsabili molte figure di questo settore che hanno traccheggiato ma a proposito di questo peraltro stiamo toccando un altro stai toccando un altro tema che poi ci porterebbe molto lontano ma che secondo me non possiamo non possiamo del tutto dimenticare perché è il destino della piccola e media impresa italiana al di là del settore di cui ci occupiamo però i mali di cui tu parli io credo siano un po' condivisi leggevo un libro un po' di tempo fa di un amico tra l'altro milanese Andrea Panato e lui ha intitolato questo libro Restartup dedicato non alle start-up ma appunto alle PMI alle PMI che secondo lui devono reinventarsi detto così non sto rendendo giustizia al libro sembra un po' banale però in effetti lui lo ecco il senso è quello sì sì l'articolo è bene e il passaggio generazionale di cui parlavi è stato sicuramente in un modo critico no? perché magari ecco la generazione dei padri che negli anni 70 80 magari a tutto devo dire anche anche tutto un clima se vogliamo favorevole all'impresa poi si è scontrata con un clima completamente mutato e anche con la difficoltà magari di passare dal modello familiare no? il modello l'azienda familiare è un modello invece in cui un modello più moderno in cui magari ti affidi anche di un manager esatto ma guarda intanto come ti dicevo l'ho sperimentato sulla mia pelle quando appunto qualcuno di Illuminato mi propose come design manager in un momento nel quale le aziende non si avvalevano di figure di questo genere era un periodo nel quale quelle aziende avrebbero potuto dotarsi di tante opportunità e risorse faccio un esempio di e-commerce se ne parlava e se ne è parlato molto tempo fa è sempre stato accantonato come una dimensione che era un po' menosa faticosa e che andava in conflitto con magari la rete distributiva che era più tradizionale c'era un clima spesso di grande soggezioni su alcune figure di questi processi faccio l'esempio gli agenti le direzioni commerciali addirittura le agenzie di comunicazioni tutte queste figure anche per queste piccole realtà hanno costituito non a volte il consulente ideale il momento ispiratore per il passaggio eccetera ma addirittura la competizione interna la conflittualità quindi sono andate a stemperare delle opportunità che invece andavano proprio espresse quando la crisi non era così evidente ci sono stati settori penso al settore dei sanitari piuttosto che io ho lavorato per Carrara e Matta che faceva faceva dei complimenti per il bagno c'è stato un momento che sulla scrivania avevo invece che i fiori il cesto degli scopini da bagno perché dovevo fare un'analisi di tutti questi scopini da bagno per cui ho passato un momento dove avevo questi scopini che giravano perché dovevamo analizzare con Ruben Mocchi che era un progettista argentino molto bravo e in quel momento le aziende erano davvero arroccate ma potevano fare cose adesso cosa succede? Adesso adesso c'è un altro momento che secondo me va detto che è un po' un momento così adesso c'è la dimensione europea che incombe ma incombe in un modo anche qui un po' fuorviante da una parte viene vissuta come l'oro che verrà e quindi bisogna accelerare alcuni processi per dimostrare di essere credibili essere degli applicanti essere delle delle figure coerenti con quello che è la richiesta ma in poco tempo non si riesce va detto è come se uno studiasse facessi i compiti all'ultimo minuto si vede per cui se tu non hai ben chiaro la differenza che ne so che passa tra un oggetto molto creativo e un oggetto di design industriale non glielo insegni in due minuti che è un'invenzione non è detto che meriti un brevetto non glielo insegni in due minuti e quindi che un'agenzia ti trasformi in un sito e tu poi non fai azioni di SEO non fai azioni mirate per quello che è il tuo futuro potenziale momento di svolta che tu ti immagini che sarà se lo fai in tempi che non sono programmabili non c'è Europa che tenga nel senso non sarai adeguati in tempi brevissimi ad ottenere quello che sembrare un premio opportunità da accogliere ma deve essere un momento di reale trasformazione che tu ti senti che è non impellente ma che è quasi una gioia affrontarla perché sei stato in un momento di stallo che era che era insopportabile comunque e questa cosa io non so se avverrà sulla spinta appunto della necessità si è parlato tanto di quelli che chiuderanno si è parlato della crisi io ho parlato con per esempio con un altro manager che stimo molto che è Andrea Sasso che ha fatto un'operazione con dei marchi importanti proprio di coesione torno al concetto della coesione come opportunità di impattare alle crisi anche ha riunito dei marchi gervasoni meridiani cioè marchi che ovviamente non confliggono tra loro ma che possono trovare dall'unione la messa in comune di alcuni passaggi che altrimenti singolarmente non potrebbero affrontare questi sono dei grandi che faranno gruppi ancora più grandi ma i piccoli e i medi devono poter avere l'intelligenza di comprendere che possono provare a fare dei lavori anche qui qualcuno lo fa faccio per esempio cito non ho avuto modo di intervistarlo ma che lo volevo chiedere c'è stato un industriale per esempio Riva 1920 che è un marchio del mobile di prestigio che ha messo a disposizione il suo laboratorio per consentire ad alcuni di avere un centro ricerche questo è un esempio naturalmente non tutti possono fare operazioni del genere però dà l'idea oggi una chance la puoi avere se non vedi solo competitor ma se vedi anche partner perché se no questo è un settore soprattutto quelli medio-piccoli che faranno molta fatica in realtà qui poi cascherebbe anche a fagiolo il tema delle reti di impresa di cui si occupa la nostra sociale e che è uno strumento come molti poi ascoltatori soprando giuridico che consente a diversi soggetti a diverse imprese di muoversi un po' come un solo uomo esattamente competere meglio con un mercato in cui i grandi sono veramente belli e per esempio in questo secondo te al di là poi della coesione tra i piccoli quali altre ricette ci sono per ecco per la competizione perché davvero oggi se siamo in un mercato non sostanto insomma nell'ambito di cui si occupiamo stasera ma un po' di tutti gli ambiti in cui le grandi aziende le grandi multinazionali hanno vantaggi competitivi di ogni tipo ma un po' facile in un modo come si può competere noi abbiamo teorizzato moltissimo studiato e anche parlato tantissimo della brand identity dall'identità poi questa identità spesso e volentieri è stata espressa un po' giocoforza da immagini da operazioni un po' di facciata non veramente sostenuti da quello che io intendo per identità e quindi una delle cose che può sembrare anche molto banali ma è guardarsi dentro definirsi bene non diventare essere quelli che si vorrebbe essere senza una connessione con la propria realtà ma riconoscersi riconoscersi anche nei propri chiamiamoli limiti chiamiamoli contesti chiamiamoli risorse di quello che hai ma non anche qui faccio un esempio pratico quando si tratta per esempio di raccontare prendiamo anche qui un esempio concreto conosco una produttrice di di imbottiti che fa sia di vanicheletti in una di queste province appunto lissone che alla richiesta al suo grafico di rivedere un sito e di rivalutare un discorso di e-commerce eccetera si è vista proporre di nuovo delle immagini da stereotipo di quello che è aspirazionale in questo settore e lei gli ha detto da architetto guarda che io quasi quasi ti prendo delle riviste di un certo periodo per farti vedere che c'era un modo di fare segno fare stile ma dobbiamo cominciare a parlare di case e di stili di abitazione che non sono quelli lì sono quelli 45 metri quadri abbiamo parlato di nomadismo perché faceva figo ma in realtà si tratta di gente che deve spostarsi costantemente per lavoro ha bisogno di spazi che siano gradevoli che siano diciamo attuali ecco a queste istanze un'azienda deve poter dire a me piace lavorare per questi qui far diventare quello là che non sono non sarò mai io ho una produzione che può arrivare fino a lì all'identità sarà questa il mio design il mio stile sarà questo e lavorare tanto su quello che sia davvero non quello che si vorrebbe o si voleva o si pensa che perché il consulente tizio deve fare il figo ti dice che devi essere perché poi viene un fallimento te ne posso citare tantissimi che ho incontrato che non è il volere ma non posso è il non riconoscersi non riconoscere neanche le proprie opportunità di essere qualcuno nel tuo piccolo o nel tuo medio o nel tuo questa è una cosa molto bella che stai dicendo quindi è necessario insomma tornare un po' al vecchio conosci te stesso no? sì ma se cosa mi ha fatto impressione leggendo alcune cose dei vostri linguaggi quando vado a guardare l'applicazione del design nel appunto come dirà perché doveva c'è chi che ascolta eh sì dice ma di quale linguaggio si fa ma poi dopo io farò come la gazzetta del profeta in Harry Potter farò una una cosa prodittoria vi farò avere una porzione vincendo la privacy delle chat così capiranno di cosa parliamo in realtà dicevo che quando penso ho letto che uno degli obiettivi potrebbe essere quello di togliere per esempio quest'idea che si sta facendo strada che l'automazione di intelligenza artificiale i prodotti legati a questo tipo di di dinamiche diventano ostili o comunque possono essere interpretati come allontananti e come minacciosi addirittura e che quindi una delle aspirazioni di un buon prodotto di una buona progettazione è proprio quella di creare l'empatia con l'oggetto col progetto a me veniva un po' da ridere perché dicevo in realtà questa è la cosa che da sempre si è cercato di ottenere avete scoperto l'acqua calda avete scoperto l'acqua calda ma o mi sono chiesta o mi sono persa un passaggio cioè che davvero e qui devo dire uno studente mi ha aiutato una volta quando io ho chiesto a uno studente dell'OIED di pensare a qualcosa di utile e lui mi ha colpito perché adesso non vi lo so citare bene però ha fatto un pensiero articolatissimo complessissimo di una cosa naturalissima che riguardava appunto una mascherina una mascherina che doveva rilevare la sua vetustà cioè il momento in cui era da buttare ora quando uno arriva a pensare di progettare l'obsolescenza di un prodotto che deve durare poco e che tu umano devi capire che non la puoi più usare perché non fa più quella cosa vuol dire che hai perso un po' di vista di nuovo ora forse magari è successo che davvero c'è una generazione che non ha capito che comunque bisogna progettare in modo che si crei questo pensiero positivo tra l'oggetto e l'umano l'empatia a questo proposito a questo proposito scusa l'intervista visto che torniamo ad un tema che avevamo trattato nel nostro primo appuntamento ormai ormai otto mesi fa e cioè il rapporto tra il soggetto e l'oggetto e la persona che aveva un po' inaugurato il nostro ciclo che è Massimo Canevacci antropologo ci diceva che per lui gli oggetti non sono puramente oggetti ma sono coautori dell'esperienza che noi viviamo quindi qualunque esperienza ci faceva sempre la sua caffettiva che secondo lui era non soltanto appunto un oggetto ma in condizione imprescindibile della sua esperienza quotidiana io sono d'accordo ma sono d'accordo non tanto perché allora per alcuni può essere una scoperta perché pensavano a un inanimato a un utenza di nuovo torniamo all'uomo al centro del progetto e quindi tutto il resto è qualcosa che ti è asservito che tu lo usi l'inerte l'uomo al centro adesso veramente adesso se io posso immaginare un progetto qui adesso non ve lo cito ma si occupa di semantica che non ve lo rintraccerei ma non oso perché ce l'ho scritto da qualche parte sono d'accordo con questo autore che diceva in realtà il progetto si deve cominciare con grande slancio a occupare della sostenibilità delle tue azioni nei confronti del pianeta in cui abiti ma non con la retorica di dire facciamo cose che fanno bene non che mi servono ma deve la scala di valori deve proprio cambiare e questo prima non lo si pensava prima si pensava semplicemente a progettare delle cose fare delle cose che ci servivano farle più più belle più attraenti più più agevoli più ergonomiche eccetera adesso secondo me questa marcia in più che è quella di calare qualsiasi produzione anche all'interno di un sistema che non è necessariamente un sistema che io devo occupare o devo controllare insomma tutte cose di questo genere ma entro in relazione e questo secondo me è un passaggio decisamente diverso una grande opportunità quindi ci sta anche col fatto che una volta parlo degli anni 80 a un certo punto Vincenzo Didato ha progettato è stato premiato anche non so se sì era un progetto una cosa particolare era una lampada che si muoveva mandava degli effluvi era un po' una specie di animale lui si ispirava molto alla natura fu premiato per questa multisensorialità del prodotto andava molto di moda negli anni 80 questo genere di prodotti e ho scoperto che non a caso Cappellini quest'anno per un'azienda produttrice di ascensori ripropone quest'idea dell'ascensore come passaggio tra un piano e l'altro luogo di pausa e di esperienze sensoriali è stata un po' una tematica che ha portato molto tempo diciamo di di sperimentazioni questa qui della dimensione sensoriale e di esperienziale perché porta l'idea dell'individuo dell'individualità quindi il timore ce l'avremo di essere avremo timori ma questi che ci considerano dei soggetti che consumano noi quindi siamo parte di una massa informe da cui cogliere dati e poi definirci come consumatori e basta poi saremo degli individui un po' picoroni che io qui cito questa cosa perché mi fa molto inchevolare del Death House che è una non so per gli ascoltatori che sanno di che cosa si tratta non mi dilungo troppo ma insomma è un esperimento che porta alcuni ragazzi 19 anni a stare in una specie di ambiente dove secondo il promotore di questa iniziativa gli influencer dovrebbero esprimere i loro talenti in un contesto che tra l'altro dal punto di vista formale è terrificante secondo me ma la cosa che trovo più terrificante è costituire questo modello aspirazionale per dei giovani di talento cioè pensare che quel contesto e questi fenomeni e questi esperimenti secondo me portano sempre di più a pensare che dobbiamo tutelarci nella nostra individualità percettiva perché altrimenti non solo ci ci definiscono come oggetti consumanti da cui a cui in qualche modo far ricorso se tu vuoi sapere solo se sei uno che compra alcune cose oppure no oppure peggio ancora diventare soggetti che non hanno più aspirazioni veramente umane in senso tradizionale ma essere semplicemente prototipi di qualche modello di nuovo di consumo o di successo che è ancora peggio quindi tu ci stai dicendo che non possiamo non possiamo ancora essere sostituiti dal modello dai big data non possiamo no c'è qualcosa in più noi cogliere è una grande opportunità questa di giocare con questa cosa cioè è una grande sfida è un'opportunità perché ci smaschera ci smaschera cioè se veramente come specie abbiamo qualcosa da dire ancora è questo il momento questa è una sfida che secondo me va accettata proprio con intelligenza a cuore e appunto capacità di mettersi in gioco senza paura non la vedo io appunto la competizione sul fatto che saremo sopraffatti da una dimensione o da un'altra vedo il fatto che vediamo se come specie abbiamo le risorse per affrontare questo cambio passo quello sì anche anche nei confronti dell'ambiente qui vorrei appunto prendere la la deriva della relazione con con l'animale con con la natura ma ci mettere anche quello quindi per le istanze su cui su cui c'è anche tanto da lavorare no? se vogliamo essere a più dimensioni sì sì e le scuole e le scuole hanno una grande responsabilità le scuole i formatori cioè devono rapidamente cambiare il passo diventare di nuovo poli di devono porsi anche agli studenti come opportunità di confronto e stimolare questa accelerazione non possono essere solamente dei soggetti erogatori di saperi e qui torniamo all'oliviettismo e torniamo a storicizzare tutto il nostro bel mondo se è andato è andato cioè bisogna mettere in campo tutto il resto quindi la scuola deve anche deve anche forrire deve anche alimentare il dissenso se vogliamo alimentare una dimensione che non è semplicemente quella che è data dal dal dato no? sì esattamente esattamente un costante dissenso un costante un costante spirito critico ma appunto radicalizzandolo un dissenso sì 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 perché perché da quel poco di esperienze che ho avuto io sono solo due anni che faccio questo discorso della docenza questo l'ho capito speriamo che tuvi ancora molto non lo so non lo so appunto perché qualcuno ci ha messo lo zampio ma insomma no vabbè qui scherziamo su alcune cose però in effetti adesso ho messo gli occhi su un'altra dimensione ancora formativa che mi hanno già detto che insomma è lunga da 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 progettazione un altro trip che ho è quello della progettazione per gli ambienti sanitari e per tutto quell'ambito che noi viviamo quando siamo malati e che non è assolutamente attenzionato dalla progettazione ci sono i luoghi dove ieri ho intervistato un grande medico che è Gavino Maciocchi che è stato un geriatra epidemiologo che ha fatto il primo esperimento all'astrasigna di co-housing per anziani l'ho fatto negli anni 70 72 con degli architetti illuminati con un assessore illuminato erano quegli anni là ed è orgoglioso di dire che funziona ancora oggi le persone che hanno abitato in quegli spazi hanno fatto vivere morì senza andare in ospedale perché la struttura lo consentiva non era un ghetto è nato da una ricerca che loro fecero in quegli anni ovviamente a nord a Svezia l'animale eccetera e io polemicamente ho detto ma insomma stiamo parlando del co-housing per anziani che è una cosa assolutamente fattibile e invece proponiamo ancora anche sui nostri giornali appunto il deaf house il co-housing per i giovani talenti che devono fare i polli per diventare degli influencer cioè perdiamo opportunità di approccio ai temi sostanziali gli anni erano gli anni della regge Basaia esatto sì esatto e quindi di attenzione alla vita del malato esatto e anche questo secondo me questa pandemia potrebbe invece che far diciamo perdere tempo su che cosa finirà e che cosa comincerà ho sentito e ho letto delle cose anche di colleghi architetti a cui consiglierei veramente di non scrivere perché sì ognuno in qualche misura deve essere responsabile delle affermazioni e dico anche una cosa antipatica se ti accorgi di essere stanco per la vita stanco per la visione fai questo mestiere forse è meglio come altri che anche a te è capitato dicano no grazie non vengo non parlo non è perché non me la sento eccetera meglio dire che non te la senti se non hai più fiducia nella tua possibilità propositiva di elaborare ancora qualcosa per questo sistema su questo pianeta alla persona con la persona qui a Lulivi insomma ci stiamo lavorando non avevo dubbi ma lì c'è un tema tecnologico invece io qui parlavo proprio di un tema di stanchezza adesso si chiama Dalisi è stato un grande progettista un grande però ha parlato della città anche qui se uno parla se uno mi chiedesse di parlare approfonditamente oggi del tema dell'intelligenza artificiale dico sto studiando non sono in grado di dare delle risposte in quella direzione con concretezza Dalisi che parla della fine delle città e del fatto che le città diventeranno un luogo oscuro alla med cioè no allora no non ci sto perché dico no questo è il momento che anche gli architetti dicano ho fatto l'archistar facevo le mostre mi andava bene adesso sono sfinanciato perché non ho più committenti che mi fanno giocare al mio gioco preferito è meglio dire così bene Rosanna noi poi questo tema questo tema della città lo porteremo avanti lo svilupperemo tanto nel 2000 tocca studiare sì 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 iniziando peraltro con un incontro a gennaio sul modello Milano mi piace e io sono contentissima sono contentissima perché anche qua bisogna sfatare una serie di cose perché io sono un appassionata delle altre città e a volte ho parlato anche non benissimo di Milano ho fatto anche un'accurata richiesta a Beppe Sala in pieno lockdown dicendo non diamo questa immagine di Milano perché Milano non è solo questa oggi più che mai dico senza retorica Milano ha dei quartieri straordinari ha delle persone straordinarie e poi sì certo abbiamo maneggiato più soldi di altri quindi questo comporta che abbiamo un'attitudine al potere che si è molto sviluppata mettiamola così e quindi non è detto che sia male anche questo e la città può essere davvero ancora una volta io sono fiduciosa un motore anche se si analizza su questi aspetti che non sono stati brillantissimi né trasparenti in alcuni momenti quindi questa è un'occasione secondo me anche per tirare fuori il terremoto il terremoto lo lascerei perdere invece sì ma infatti infatti io non chiedevo che fossi una città Milano no allora oggi hanno specificato ed era una cosa io confesserò che nel mio armadietto ho anche lo zainetto per il terremoto questa è una cosa che sfiora un po' la paranoia ma ho sempre messo il cioccolato l'aspirina il liquido dei lenti a contatto perché nonostante tutti mi avessero detto questa cosa del Milano no in realtà Milano come gli altri sta in Italia e può averla questa dimensione del terremoto poi può avere effetti meno Milano sta in Europa comunque posso dire una cosa insomma Milano in Europa mia mamma ha chiamata in proposito settimana dice sembrava un po' piano di sopra che ha buttato giù un vaso un po' pesante però francamente fa non è che mi voglia ma prende un po' di rescuremedi ma che rescuremedi casomai il terremoto fuori c'è la pandemia ma di cosa ci preoccupiamo questo è Milano bene Rosanna Vermilla grazie ancora grazie a voi interessantissima conversazione grazie a voi noi riprenderemo un po' questi temi anche a Milano e speriamo di avervi ancora va bene prenderò appunti anche su Milano anche sulla Toscana avrò un po' di cose da dire anche su questa Toscana che si sveglia così e si ripromuove come artifice di anche un po' di modernità che non guasterebbe bene grazie ancora a te arrivederci arrivederci grazie a tutti